Vanno via gli uomini dalle gambe, partiti. Galoppa in vantaggio, Rush Tox avanti a Sunset Brins, poi Serafino Gatti, superato dalla Dama del Vento, più indietro Big Ayes. Rush Tox guida con ai fianchi la Dama del Vento, a qualche lunghezza Serafino Gatti è in terza posizione a precedere Sunset Brins e Big Ayes. Cavalli dopo 200 metri, con i due di testa che per il momento hanno preso un notevole vantaggio a Serafino Gatti, con la Dama del Vento che insiste sul Rush Tox e prova a profilarsi dopo 400 metri in prima posizione. Molto più indietro a Serafino Gatti, Sunset Brins e Big Ayes che prova dal fondo a venire avanti, cercando di accorciare il gap che si è fatto consistente dopo 600 metri. La Dama del Vento ha preso l'iniziativa sul Rush Tox e guida dopo 700 metri. A diverse lunghezze Serafino Gatti precede Big Ayes e Sunset Brins. I cavalli stanno per completare la curva di sinistra per la prima volta, ora vengono davanti alle tribune per il passaggio, quello prima dell'arrivo, con i tre inseguitori che provano ad accorciare, mentre anche Rush Tox ha perso contatto da Dama del Vento, che si presenta a tre davanti a Rush Tox, davanti alle tribune. Ha dato il tanto distacco, Rush Tox precede Big Ayes, Serafino Gatti e Sunset Brins. Curva del caffè, 900 metri alla conclusione, la corsa comunque non è ancora entrata nel vivo. La Dama del Vento è sempre in vantaggio, Rush Tox è sempre a un 3-4 lunghezze, gli altri, almeno per il momento, fanno fatica a raggiungere addirittura Rush Tox. La Dama del Vento continua a condurre, ma adesso è il momento di fare sul serio Big Ayes, specialmente il Sunset Brins, stanno scattando. Sunset supera Rush Tox, che è in fase calante, è rimontato di dentro da Big Ayes, ma insiste nella sua azione, prova a avvicinare la Dama del Vento, anche Serafino Gatti è in terza consiglia, come vedete, sta sprintando in maniera notevole. La Dama del Vento è in vantaggio, con Serafino Gatti e Sunset Brins, che per ora stanno superando, Big Ayes sembrerebbe per il momento battuto, con Sunset Brins e Serafino alle prese, con Serafino Gatti che a centro pista attacca Sunset Brins, Big Ayes va sulla Dama del Vento, addirittura finale, ultimi metri, con Sunset Brins e Alberto Reoletti che mantengono la meglio nel finale, Sunset Brins, Serafino Gatti, Big Ayes, la Dama del Vento e Rush Tox. Bella vittoria, bella interpretazione di Alberto Reoletti, molto deciso con Sunset Brins che rimedia all'ultima sconfitta inopinata, viene a vincere in maniera netta, una e mezza avanti a Serafino Gatti, a completare la trio, appena lo slow, come vedete, fa vedere, si piazza Big Ayes. 2-1-5 per la trio, 2-1-5-3-6 sul traguardo. Sunset Brins, Domenico Grisanti ha i colori al training per la magia di Alberto Reoletti, da Villanova per la seconda, per il momento è tutto.